Il punto volley di questa settimana è sulle immagini della nuova Lega Pallavolo Centrovolli contro il team Schiavetti in maglia più scura. La partita è stata vinta dalla nuova Lega Pallavolo per 3 a 1 e riguarda il campionato Under 16 femminile. L'altro risultato di questo campionato è Centrovolli-Borghiera-Bate Casinò-Sanremo per 3 a 0. La terza partita che però non è stata ancora disputata era Maurina-Classilpesto contro Pizzeria-Mirella-Golfo-Didiano. Proseguendo col campionato femminile Under 18 che è stato fermo per la pausa natalizia diamo ora la classifica delle prime tre squadre. Casinò-Sanremo 32 punti, Maurina 30, Sanremo-Volli 21 e mancano tre giornate al termine del campionato. Passando al settore maschile abbiamo per l'Under 18 maschile siamo arrivati alla fase finale. Alla finale partecipano Pizzorante-Fradiavolo dalla Polisportiva Corpo e Movimento e Volli Team Armatange. La finale si discuterà il 10 febbraio. Per quanto riguarda il 16 maschile siamo anche qua alla prima giornata che avrà inizio il 20 febbraio. Le società iscritte sono Volli Team Armatange, Cariparma-Voleria, Yamaha-Halco-Sanremo e Volli Team Finale. Passando ai campionati regionali abbiamo purtroppo da registrare le nostre tre squadre impegnate nella Coppa Liguria hanno perso tutte e tre, sia al Casino-Sanremo, sia alla Maurina Classe-Il Pesto, sia al Cariparma-Primavera. Diamo ora un accenno ai campionati regionali di serie che riprenderanno questo sabato. Cariparma-Imperia contro Sabazia-Savona, Volli Team Armatange contro Albisola-Palavolo, Lavagna per la D maschile, Lavagna contro Polisportiva Colpo e Movimento e per la D femminile abbiamo Casino-Sanremo contro Albengue, Dormone alle ore 21 e il derby Singing Beatles-Diano Marina contro Maurina Classe-Il Pesto. Il derby avrà luogo al Palacanepa di Diano Marina alle ore 21. Diamo ora un ultimo accenno alla selezione provinciale che avrà luogo domenica alle ore 14.30 verso la palestra Ruffini d'Imperia e riguarda l'annata 94 solo per il settore femminile. I due tecnici incaricati di questa selezione sono Mirko Livieri e Daniela Acquarone. Un'ultima cosa, per chi è interessato comunque a notizie e risultati classifiche della pallavolo provinciale può sintonizzarsi sul sito www.imperia.federvolli.it ripeto www.imperia.federvolli.it